Bonificavano uffici e abitazioni dalle intercettazioni, sei arresti nell'interlanda napoletano. I carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia nei confronti di sei soggetti gravemente indiziate di corruzione, danneggiamento di sistemi informatici o telematici, favoreggiamento personale, delitti tutti aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose. L'attività investigativa coordinata dalla DDA Partenopea e condotta dal nucleo investigativo dal novembre 2019 al settembre 2020 ha consentito anche con il contributo delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia di raccogliere molteplici elementi di prova per cui risulterebbe che uno degli indagati, dipendente di una ditta fornitrice per la Procura della Repubblica di Napoli di servizi e strumentazioni per attività tecniche di intercettazione, con l'intermediazione di un ex appartenente alle forze dell'ordine, avrebbe effettuato dietro corrispettivo di somme di denaro, bonifiche, rinvenimento di microspie, presso abitazioni, autovetture ed uffici nella disponibilità di affiliati al clan Pucca, aiutando costoro a deludere le investigazioni sull'associazione accamorristica a cui gli stessi appartengono. Inoltre uno degli arrestati avrebbe materialmente danneggiato una telecamera di sorveglianza installata per fili investigativi dai carabinieri nei pressi dell'abitazione di Pasquale Pucca, alias Ominorenne, indiscusso capo dell'omonimo clan. Tra i soggetti colpiti da provvedimento cautelare ci sono quattro esponenti di primo piano della citata consorteria.